Benvenuti su Veia Channel, iscrivetevi al canale per non perdere la priorità acquisita. Sono Salvo e questa è la mia storia. Sono nato in Sicilia in una famiglia normale con problemi normali, un padre, una madre, una sorella e un cane. Siamo stati costretti a trasferirci al nord per problemi economici e non avendo molte opportunità ci siamo trasferiti in un quartiere malfamato. Ma io non avevo paura. Mio padre diceva di essere un eroe che combatteva i cattivi. E sapete, io ci credevo. Purtroppo mio padre cadde in depressione per via del trasferimento. Mia madre lavorava da sola e cercava di sostenere la famiglia come poteva. Mio padre cercava di riprendersi, ma faceva fatica ed io cercavo di aiutarlo come potevo, ma spesso riversava il suo stress su di me. Ma nonostante tutto, volevo bene mio padre. A dieci anni lo accompagnavo dallo psicologo e aspettavo fuori che lui uscisse. Da solo non riusciva. Aveva smesso di fare l'eroe ed aveva paura. Iniziai ad avere anch'io paura. Ma non del quartiere. Avevo paura di lui. Papà dormiva sempre, notte e giorno. Stava sempre a letto e qualsiasi rumore lo svegliasse lo imputava a me. Forse a volte aveva ragione, ma era un bambino e lui scaricava la sua rabbia su di me e quando le mani non gli bastavano usava calci e pugni. Avevo paura di mio padre, ma gli volevo bene. Mi sentivo solo ed incompreso. Non parlavo con nessuno e spesso volevo scappare. Ma dove andare? Più volte ho pensato di chiedere aiuto. Ma a chi? Ero solo un bambino. E nessuno faceva nulla. Una madre non faceva niente e non diceva niente. Anzi, a volte dava manforte a mio padre. Ero solo un bambino e mi sentivo solo. Ero solo. Mio padre mi chiese di aiutarlo, perché lui non voleva essere così. Allora ci provai. Disse che voleva tornare a lavorare. Faceva il panettiere. Allora andai con lui. Di notte lavoravo e di giorno andavo a scuola. Un ultimo bel ricordo con mio padre fu una canzone cantata, guancia guancia, di notte, in macchina, mentre tornavamo dal lavoro. E lui gridava che era guarido. Ero felice e volevo bene mio padre. Il giorno dopo mio padre non si alzò per andare al lavoro. E quando lo chiamai si arrabbiò, perché lo stavo svegliando e se la prese con me, come faceva di solito, ma con una giunta di cinta. Dopo essersi ripreso si avvicinò verso di me e mi disse Io non posso farti da padre, perché non ho mai avuto un padre. Ma ormai stavo crescendo e iniziavo a non avere più paura di lui. Ormai i suoi colpi non mi facevano più male e quando riuscivo ad evitarlo scappavo in bagno. A 16 anni mio padre voleva obbligarmi a comprargli le sigarette. Ma per me poteva comprarsene da solo e mi disse che ero un bastardo. Iniziai a picchiare la testa contro il muro del nervoso. Si avvicinò per picchiarmi, ma poi capì che non sarebbe andata come sempre. Che non ero più un bambino e uscì per comprarsi le sigarette. Una delle ultime volte che parlai con mio padre mi trovavo in ospedale. Ero ricoverato. Una settimana dopo mi diagnosticarono una scilosi multipla. Mi venne a trovare con mia madre, entrambi quasi in lacrime. Chiese mio padre perché piangesse, visto quello che aveva fatto per anni. Mi guardò e mi disse che lui non aveva fatto nulla. Disse, e tutte le volte che mi avevi picchiato, lui mi disse che non aveva fatto nulla. E stavo solo esagerando. Non volevo più vedere mio padre. E disse a me stesso che voleva essere tutto quello che non era riuscito ad essere lui. Non voglio bene a mio padre. E nessuno comprende il perché. Mi viene detto, è sempre tuo padre. Ed io rispondo, che lui non ha mai avuto esserlo. Non ho bisogno di un padre. Ma piango tutte le volte che guardo il film La ricerca della felicità. Oggi ho quattro figli e non so se sarò sempre un buon padre. Ma ci provo con tutte le mie forze. E spero che un giorno mio figlio sia un buon padre come cerco di essere io con lui. Sono salvo e questa è la mia storia. Volevo augurare buona festa del papà. Soprattutto a tutti quei figli che sono riusciti ad essere padri senza averne mai avuto uno.